La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sui presunti esami facili effettuati all'università privata Link Campus con 71 indagati per associazione a delinquere e falso, tra loro il presidente della scuola che rilasciava lauree riconosciute dallo Stato, l'ex ministro Vincenzo Scotti, vertici amministrativi dell'ente, docenti e studenti, tra cui ci sono molti poliziotti. L'atto di conclusione delle indagini è stato firmato dal sostituto procuratore Cristin von Borghies dal procuratore aggiunto Luca Turco e dal procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo. Scotti creò nel 99 l'Università di Malta, poi diventata Link nel 2011, con il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione. Sotto inchiesta ai corsi dal 2016 al 2018, secondo quanto ricostruito dalle indagini, i poliziotti avrebbero sostenuto esami finti, con il permesso di copiare liberamente, senza mai vedere i professori, che però avrebbero poi firmato i verbali. Invece di svolgere gli esami nella sede di Roma, gli studenti in qualche occasione sono stati mandati anche nella sede di una cooperativa all'interno del mercato ortofrutticolo di Firenze. Ai poliziotti iscritti al SIULP bastava versare alla Fondazione Sicurezza e Libertà una retta di iscrizione da 600 euro, oltre ai 3.500 di quella universitaria, che finiva in un conto corrente a San Marino. Grazie. Grazie.